Io voglio congratularmi con il nostro amico Giovannini, non solo preparato ma simpulato in questa sua cultura e quindi avrò piacere magari di partenermi con lei qualche altra volta. Scusi, lei ha detto che è stato a Dachau, ma questi forni c'erano o non c'erano? Ma non so, io non li ho vissuti i forni a Dachau, probabilmente c'erano non nel settore come io ero. I forni a Dachau non sono mai stati utilizzati, ne ha mai servito parlare? Noi nel campo non sentivamo parlare, noi da parte eravamo deportati e quindi c'erano mazze di deportati di ogni nazionalità, poi tra l'altro io sono andato pochi mesi. Però ecco non ha avuto sentore di qualche cosa del genere? No, eravamo tutti pieni di pidocchi e di altri animali. E quando è che ha saputo per la prima volta di questi forni? In Italia, quando siamo venuti in Italia. Ecco, questo mi sembra molto significativo, la ringrazio. Prego, grazie. Buonasera, grazie.